e lei simone lanieri si complimenti sindaco vogliamo aiutare ragazzi e allora noi dobbiamo cambiare anche noi preti salvatore va benissimo nazionale non mi sembra un po' esagerato picciotti un'altra cosa la domenica venite in chiesa ogni tanto organizziamo diciamo un twist con Gesù di Nazareth certo non è già un travolta però sull'acqua ci sa fare il trasferimento delle vostre esperienze alle giovani generazioni resistere fino alla fine maresciallo ma che è tutto sto scadamento io obbedisco alla costituzione e dopo a lei viva l'italia viva il piccolo salvatore e come dicono da quelle parti qui non si muore grazie a tutti